Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo della presentazione di questa nuova linea che avremo a disposizione per i nostri clienti. Si chiama Scirabio, è una linea biologica e biodinamica. Allora la sua caratteristica è quella di andare a detergere e curare ogni tipo di anomalia della cute e dei capelli. È un prodotto biologico biodegradabile, soprattutto per quanto riguarda lo shampoo e le maschere sono prodotti solidi. Cosa significa? La componente solida è composta da due saponette, una che funge da shampoo e l'altra che è una maschera. Il vantaggio è che non contiene acqua all'interno, quindi c'è un risparmio della parte idrica del prodotto e il vantaggio è avere anche un maggior controllo del prodotto essendo un prodotto solido. Noi pensiamo che sarà anche il futuro, diciamo, il prodotto solido della cura e della detestione dei capelli. Inoltre le profumazioni sono molto naturali, non contengono nessun tipo di problematica, attenzio attivo anfoteri oppure nessuna componente chimica. È un prodotto unisex e soprattutto ci sono delle componenti mirate per ogni tipo di anomalia della cute e dei capelli, quindi che varia della glute cassa, dermatite seborroica, glute secca e disidratazione dello stelo.